Ciao sono Ugo Cappadonia in arte Cappadonia e non ho un animale domestico Sto passando la quarantena qui a casa mia, sono con la mia ragazza Sicuramente lei ucciderà prima me La cosa più strana che ho fatto in quarantena è stata tagliarmi le basette per la prima volta dopo sei anni La cosa più strana che ho fatto nella vita è questa quarantena Per ora suono in continuazione Junk di Paul McCartney Qualsiasi cosa abbia a che fare con il ragù Finita la quarantena andrò a trovare i miei amici a Milano La parola musica mi fa venire in mente luce Grazie ragazzi, ciao alla prossima